Fantastico, fantastico! Gli hanno fatto un gol spettacolare, assolutamente, gli hanno dato la possibilità, oh! L'Ucraina va al destro, ha fatto questo cassetto, con il regalo. È un gol! È un gol, è un gol! È un gol! È un gol! È un gol! rosso della partita un attacco totale però allo stesso tempo c'è anche la possibilità di togliere gol Stankovic la conto al piano Stankovic gioco in questa situazione è Shane Jolly Stankovic come l'ho detto questo sarà un terzo tempo folle Adesso la regola è finale di Boccolis 6-2 è parziale Si provano e fanno un gol Si provano e fanno un gol Si provano e fanno un gol Si provano e fanno un gol